Ha preso la voce forever, ma era un capolavoro Pensa se tu avessi fatto il provino per Ragnar in questo modo Bombo ragazzi, dopo tanto tempo torniamo a fare un video dove utilizzo la mia voce Vi ricordate quando giravamo la ruota digitale, usciva una voce, una situazione Gira la ruota? Sì, me lo ricordo, era un video vecchissimo Gira la ruota Bene, odiamo la tecnologia, quindi lo faremo con i bicchieri Tre bicchieri Stiamo devolvendo L'anno prossimo facciamo con le incisioni rupestre Madonna mia, Mauri ha finito il budget evidentemente Perché fare il video con i bicchieri di plastica, borca troia O gli sono arrivate anche lui le tasse da pagare, se no Deve aver finito il budget Probabilmente Delle voci, dei personaggi, dall'altro delle serie di film e telefilm Questa è una challenge È una challenge Interpreterò, leggerò quello che è una frase di un film, serie tv Quello che è? Con una voce che ve la seleziona dall'altro bicchiere Ah, ok, ok, ok E noi dall'altro lato della camera ti daremo un voto da 1 a 5 merluzzi Oh, bello, bello, mi piace Allora, da dove comincio? Quante ne facciamo intanto? Dispari Dispari Cinque 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 interpretazioni Cinque interpretazioni Non è solo per te Comunque come sono andate le ferie Bene, Valentina Ci sei mancato, Andre Anche voi, papere Cinque occasioni per stupirci Iniziamo da Cosa sono voi le Le voci Vediamo chi è Sono almeno 72 Chi è? Sì, basta il salone No, dai Gianto, grazie per i 7 Leonardo, grazie per i 9 L'ho fatto benissimo Nel senso Lo fa bellissimo Il vero stallone Andrea comunque in Austria della Cno Ho trovato nelle buste di Basta la Bologis E casa con uovo e pancetta Ovvero la carbonara In un ristare ci stava un piatto di fettuccine Con pesto e gamberoni Con parmigiano reggiano Mi veniva da sboccare Ma che schifo, grazie per i 7 Ci sono delle frasi da film o serie tv Frasi famose, frasi iconiche Vediamo cos'è Che infecille Barba, grazie per i 9 Devemi dovinare cos'è Carlo, grazie per i 9 Ma che infecille Uno stregone non è mai in ritardo Frodo Beggins Dei un attizio Arriva precisamente quando Intanto è forte Questa frase Se effettivamente Stallone Avesse recitato Del Signore degli Anelli E fosse stato doppiato da se stesso Da se stesso O con l'intelligenza artificiale Uno stregone non è mai in ritardo Frodo Dei un attizio Sembro Alvaro Alvaro e Camiglia Siamo Alvaro Soleil No, Alvaro e Camiglia Mi si sono calate le braghe Camiglia Che infecille Madonna mia Perbaccolone Quanto sono brutti Che era doppiato da Silvestre Stenberg No, era doppiato Da Piero Tiberi La voce di Tetsuya del Grande Mazzini A me è piaciuto molto A voi Sì, sì, ci sta, ci sta Direi 4 merluzzi Che schifo Da 1 a 5 merluzzi Quanti merluzzi gli date? Allora, signori Big Luca Eccoci qua Oh ragazzi Mi ha fregato l'idea Ragazzi Non so se avete Mi è capitata la pubblicità Alla maglia con scritto Te gusta la man gusta Mi ha rubato Mi ha rubato la frase Mi ha rubato la frase Mi ha rubato la frase Lo dicevo io Te gusta la man gusta È un altro di frasi È un altro di frasi Quattro Anch'io ero per quattro meno Quindi hai totalizzato 12 merluzzi Corrado Guzzanti Come fa il Corrado Guzzanti? Tanti personaggi È Corrado Guzzanti Infatti come fai Scusa a fare la voce Di Corrado Guzzanti Grinder Grazie per il 5 È un valatino Scusa come fai? Mi pare che il signore Si è già accanito abbastanza Vediamo la frase Carpe Diem Cogliete l'attimo ragazzi Rendete straordinaria La vostra vita La parola di quello C'è vita nell'universo? Non lo so Forse un po' Il sabato sera Io amo Guzzanti ragazzi Sì è fantastico Guzzanti è fantastico Però come fai a imitare Guzzanti? Cioè non ha una voce Così tanto specifica Oh lo amo alla folia Però immagina di L'attimo fuggente Interpretato da Guzzanti E Carpe Diem Ma sai che sono alzato stamattina A di 7 per un quarto A bambina ha vomitato Tutte le olive ascolane Con la Nutella Maestro è vero che il primo No ma è difficilissimo Come fai? Non ha una voce Così specifica Guzzanti L'uomo è nato sulla terra È certo che il primo uomo È nato sulla terra Se il primo uomo Nasceva nell'acqua Affogava Qui è nato sulla terra Mi è piaciuto molto Ho visualizzato questa versione Italiana dell'attimo fuggente Con Guzzanti Con Guzzanti molto bello Voto 5 merluzzi Voto 5 anch'io C'è stata tante merisimiazioni Stavolta Sì Io invece ti do 3 merluzzi Perché? Era facile Era troppo facile Però comunque Sono 13 merluzzi 13 merluzzi Meglio di quello del precedente Però mi sta venendo fame Furio a parlare di merluzzi Non per dire Ragazzi Una cosa importante Ti muori talmeno Ma ho già Così Ciccio gamer E tu non sai fare A 1 ma da 3 ragazzi Lo stecco di Cos'ho appena sentito Mi ha fatto se di lo stecco di legno Cos'ho appena sentito Che abbiamo Ma come è Danny Lazarin Ma come è Danny Lazarin Scusa come fai a fare la voce di Danny Lazarin Danny Lazarin sa fare Murri Ciccio gamer E tu non sai fare A 1 ma da 3 ragazzi Ma che cazzo è Ma sembra Malvin E qui le maglie ragazzi Ma dai ma non ha la voce così di merda Ma che cos'è Alcune mi ha detto ragazzi Ma dai ma sembrava mia nonna Con la rinite Ma che cos'è Se vuoi imito Danny Che imita Murri E com'è Sull'anas ci stava un po' di cannella E per me è un po' di M***a Con un po' di merda Sintonizzati su Danny Lazarin Già da un che ne so Danny c'ha sempre Ma perché è vera la risata di Danny Sembra stici ubriaco Contagioso no? Che cosa c'è da Oppure quando va negli acuti è fantastico Quando ride forte fa Purissimo Ma che tropposione Ma dai non parla così Danny Piccolo ai fatti Dai c'hai un po' di Danny È bellissima tra l'altro Si addice molto a Danny Oh cos'è Oppure posso fare Danny Quando motiva Vai Il vostro futuro non è scritto Il futuro di nessuno è scritto Il futuro è come ve lo creerete voi Perciò createvelo buono UOMO Beh 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 Questo era il ritorno al futuro Sì Doc Brown Bello Doc Beh vuoi dire che la verità L'ha fatto bene però L'ha fatto bene Non è male Però l'ho interpretato Da Danny è bellissimo Col camice Tipo strappato Strappato Non l'ha fatto male Che arriva dal futuro Che invece di dire grande C'è grande C'è grande Ciove Che è impeccato Molto bello Per me è un 4 merluzzi 4 merluzzi Io ho 3 merluzzi Ah ok Vabbè 3 merluzzi anch'io L'uomo doveva essere più graffiato Secondo me Sì ma io ci tengo alla gola Ci lavoro Quindi sono 10 merluzzi Eh beh beh dai Non male non male Siamo a un totale di 35 merluzzi Chi abbiamo qui Ah Tappolino Vabbè Tappolino la saprà Oh caballo Prendiamo un foglio Mi rallegra sapere Che il grande Odino Si sta preparando Per il banchetto Ciao Andrea Da un po' che non ti seguo Però mi piace Tornare di tanto in tanto Il roda cornere curve L'eroe che entra nel ballalla Non piange la sua morte Io non esiterò Nella sala di Odino Pieno di paura Lì Aspetterò che i miei figli Mi raggiungano E quando lo faranno Mi croggio l'eroe Nei loro racconti Trianfali Mi ha esermi Danno il benvenuto La mia morte Nuovo cartone Disney Per tutta la famiglia No Nicola Grazie Nicola Grazie per i set Ci compirò Senza soluzione E do il benvenuto Alle valchirie Che mi riporteranno A casa Io forterò Hai perso la voce forever Ma era un capolavoro Penso se tu avessi fatto Il provino per Ragnar In questo modo Questo è Un cinque merluzzi Dorati proprio Sì sì Cinque merluzzi Assolutamente Quattro merluzzi Ah perché questo Quattro merluzzi Cos'è che non ti ha convinto No no Questo vale Questo vale Vediamo se nell'ultimo riesci A fare un Un Perfetto Cos'è? È Adriano Oh beh E allora Prendo questo Grande Che cos'è uscito Con Adriano Celentano Cos'è? Mi chiamo Adriano decimo meridio Comandante dell'esercito del nord Generale delle regioni felix Servo leale Nell'unico vero imperatore Marco Aurelio Padre di un figlio assassinato Marito Di una moglie uccisa A pausa di Celentano E avrò la mia vendetta E in questa vita O nell'altra Claudio Adriano è Adriano Vediamo se abbiamo convinto Sì Cinque Questo per forza Tutto cinque Ok Sette merluzzi Sette Cinque merluzzi Anche per me Cinque merluzzi Sai chi fa veramente Una bellissima imitazione Di Celentano Moneta Ah sì? Ma a me è meravigliosa Dobbiamo invitare Moneta per scuola di voce E reazione doppiatore Il video è Claudio Moneta E parliamo tutto il tempo Tutti e due Con la voce di Celentano No giuro È bravissimo Ce ne erano ancora tantissimi Li conserviamo Per il prossimo video E questi sono quelli di oggi In totale Quanti merluzzi ho accumulato? Sessantaquattro Carino Sessantaquattro Bellino il video Mi è piaciuto Ora Rimanere in tema Volevo vedere Volevo vedere Volevo vedere Il video di Poldo Che è uscito Perché i vegani Odiano i videogiochi Mi ha un sacco curiosito Il titolo Voglio troppo vedere cos'è Aspetta L'audio Controlliamo l'audio Come sempre Che l'audio Deve essere a posto Se no Giochi Ah Cristo Poldo Il timpano Amici miei Quell'intrattenimento Per cui il mondo Ci ha sempre preso in giro Chiamandosi nerd Ma che adesso è diventato Un fenomeno molto comune Tanto che gli stessi Che prima ci attaccavano Adesso giocano a FIFA Il mondo è cambiato I videogiochi hanno una grafica migliore Storie incredibili Meccaniche innovative Merda tra l'altro Mirabilandia ragazzi C'è lo stand della Ducati C'è dentro lo stand della Ducati Un videogioco dove tu praticamente sali su una moto Finta Con uno schermo enorme davanti Che giochi e giochi di moto Ma è dentro una sfera E questa sfera ti muove così Ti muove a destra a sinistra Quando curvi Quando giri È bellissimo ragazzi È stupendo In generale ogni anno Si evolvono in modo incredibile Ma sapete cosa nel tempo Non è cambiato? Che non sto parlando Dei video di Dorian B Ma bensì di una guerra Che va avanti ormai Da molti anni Ovvero quella tra Il mondo videoludico È il PETA Ad esempio Lo sapevi che se Un Big Mac Il PETA E il creatore dei Pokémon Si trovassero nella stessa stanza Probabilmente Satoshi Tajiri Verrebbe crivellato di colpi Nonostante ormai il PETA Si sia fatto un nome importante È giusto spiegare di cosa si tratta Anche a chi Non ha mai toccato l'erba La P- No vabbè Giusto Spieghiamo Spieghiamo Cos'è il PETA E come vi ho già detto tempo fa Spieghiamo Sono quelle persone Che si battono a favore degli animali Liberando Aragoste Nei fiumi Ammazzandole tutte Perché sono animali D'acqua salata Io ci tengo Io ci tengo a specificare Io ci tengo a specificare Nel dubbio Nel dubbio Io ci tengo a dirlo People for Ethical Treatment of Animals Appreviata in PETA È una delle più grandi e influenti Organizzazioni internazionali Per i diritti degli animali Attiva sin dagli anni 80 Come missione principale Quella di promuovere Il trattamento etico degli animali E porre fine al loro sfruttamento E la crudeltà in vari settori Come l'industria alimentare L'abbigliamento La ricerca scientifica Guarda L'industria alimentare fallirà continuamente Frank grazie veramente Uno palatino Considerando che io tra ieri e oggi Mi sono mangiato due fiorentine E senza offesa Io non voglio essere stronzo Però l'industria medica Credo non possa essere fermata Anche perché con tutto il dovuto rispetto Signori del PETA Io per salvare la vita dei miei parenti Sterminerei qualsiasi tipo di forma di vita Su questo pianeta Quindi di conseguenza Leo grazie per i treci Ma di no L'intrattenimento E cosa c'è di male direte Stanno facendo una cosa basata Si hanno inventato sta parola Probabilmente per riferirsi a quanto sia sbagliato L'abuso sugli animali Ma allora perché un'organizzazione Che fa una cosa così benevola E odiata da tutto il mondo Perché sì ragazzi Basta farsi un giro su internet Per scoprire che Tutti odiano il PETA E con il passare di questo video Comprenderete anche perché Probabilmente anche tu che stai guardando L'iodi senza saperlo Sono proprio quei babunzo Con le maschere degli Anonymous Nelle piazze che mostrano Sì sono sempre quelli Con le maschere di Anonymous Che sono le maschere per vi per vendetta Che li indossano Perché si sentono ribelli Quando il massimo della ribellione Che hanno fatto E mettono un posto su Facebook Con due virgole e un punto in più Strono da dei televisori Macelli degli animali Scommetto che li avrai visti E avrei detto Tra le varie attività del PETA però Ci concentreremo sulla loro guerra Continuo contro i videogiochi E che problema hanno i videogiochi? Semplice Gli abusi contro gli animali Dai vabbè ma si lamenteranno Di due giochi in croce In cui succede va là E invece no amico mio Sono molti più di quelli Che ti immagini Ma scusa ma perché È così divertente Ammazzare gli animali nei videogiochi C'è uno dei miei passatembi preferiti Letteralmente in Far Cry 5 Io sparavo i missili sulle mucche E' letteralmente una delle cose Più divertenti da fare In Far Cry 5 Prendevi il lanciafiambe E bruciamo ogni animale Prendevo cazzo l'elicottero Lo schiantavo sulle mandrie Di mucche in giro Hanno tutti una cosa in comune Una famigerata crudeltà sugli animali Partiamo con calma Questa è una lista di giochi Così lunga Che devo scegliere quelli più eclatati A partire da Call of Duty No adesso tu mi spiegare No adesso tu mi devi spiegare No no allora Adesso tu mi devi spiegare In Call of Duty In Call of Duty In Call of Duty Ma adesso tu mi devi spiegare Adesso tu mi devi spiegare Dove i cani Ah giusto E beh effettivamente Hai ragione Hai ragione E' un videogioco di guerra Dove si sterminano migliaia di persone Ma effettivamente Se c'è il cagnolino Allora Allora Effettivamente Ma poi scusa Non sono neanche veri Sono virtuosi Sono fittizi Che cazzo C'è Qui lamentano Che puoi uccidere Dei Non siate qui Non siamo lì Vieni a prendere le ragazze Devo restare con quello Dove sei I cani Che ti attaccano Ma grazie al cazzo C'è ma che vuol dire Non è che gli spari Per divertimento Ti voglio sbranare Teorando quanti cazzo Di esseri umani Uccidi E mentre leggevo questa cosa Pensavo tra me e me Ma se Call of Duty Voleva essere accurato A livello storico Il problema non è di chi usava I cani nella seconda guerra mondiale Che cazzo c'entro io Che cazzo c'entra il gioco Però vabbè Altre situazioni del genere Con Far Cry 6 Con i combattimenti tra polli E in Assassin's Creed Black Flag Dove potevi cacciare dei cetacei Eh ho capito Ma li mangiavi Che cazzo vuol dire Scusate No però Qui stiamo rassentando No ragazzi Qui stiamo rassentando L'abbonamento a Tranitalia Cioè Capisco in Far Cry 6 No non capisco lo stesso Però scusami In Assassin's Creed Li mangi Che cazzo vuol dire Scusate Primo è ambientato In una sorta di Cuba Anni 60-70 Dove era una tradizione legale Quindi per quanto crudele La veridicità storica Non dovrebbe essere omessa Mentre il secondo Mi è piaciuto così tanto Vi giuro ragazzi Quel minigioco Mi è piaciuto da morire Che adesso mi sono trasferito In Giappone Ho trovato lavoro Su una baleniera Potrei andare avanti Avanti Con giochi violenti Come questi Perché sono una caterva Tipo Elder Ring Dove il PETA lancio Ma Elder Ring Ma Elder Ring Una sfida in cui Dovevi vivere bene Con gli animali Ma che cazzo dici Ma che cazzo dici Ma in Elder Ring Ogni cosa che si muove Ti vuole assassinare Ma che cazzo stai dicendo In Elder Ring Ogni fottuta cosa Che si muove Ti vuole morto Tutto Cioè in Elder Ring Non c'è una cosa Che non ti voglia stuprare E tu pensi Ai cagnolini di merda Ma cazzo Ci sono delle ragoste Che sono Cioè Elder Ring Praticamente è Australia Simulator Elder Ring È letteralmente Australia Simulator Ci sono Dei cani Di a 200 chili Uccelli Grandi Come dei palazzi Aragoste Che sono grandi Come autobus Che ti sputano roba La velocità del suono Ma che cazzo Ma che cazzo Ma no Voglio parlare Dei giochi Apparentemente Innocenti Tipo Banjo Kazooie Perché porca troia Un uccellino Infilato in uno zaino Soffocherebbe Tutti lo sanno Mamma mia Che pesantezza Petra Un uccellino Infilato in uno zaino Soffocherebbe Moment Grazie 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 Per questo Anche un idraulico Con i baffi Non potrebbe Sconfiggere Una tartaruga Gigante Saltando Con dei pugni Sui cubi O un riccio Geneticamente Modificato Potrebbe andare A 200 chilometri Cioè nel senso È quello Il senso Cioè nel senso Cioè Il bradimo Grazie 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 Cioè è l'esatto motivo Per cui noi giochiamo A videogiochi Vedere e fare cose Che nella vita reale Non esistono Esattamente Cioè Anche Anche Nella vita reale Se ti sparano addosso Tu non è che puoi fare Copritevi Mi curo A posto Cioè Voglio dire È proprio quello Il senso Del videogioco Cioè Leonor Grazie per gli otto Palatino One Two Switch Per chi non lo conosce Sto giochino Praticamente per la Nintendo Switch E all'interno c'è un minigioco Dove devi mungere una vacca Ecco perché non mandare a Nintendo Una lettera in cui Condanniamo questa cosa Ok chiaramente Il loro obiettivo è mostrare al mondo Come nell'industria Non vengano munte In modo piacevole Per le vacche Però Cristo Ha ragione poverina Ragazzi D'altro canto Su questo sono d'accordo Ragazzi Pensate Quanto frustrate Sono le mucche Cioè Pensate un attimo Se voi foste una donna E c'è uno Come Cooking Mama Ecco Il PETA ha voluto sfruttare La notorietà del gioco Per una campagna provocante Creando una parodia di Cooking Mama In cui gli ingredienti Non ti arrivavano già confezionati E' bellissimo sto gioco E' bellissimo Immagino un bambino Che sta cercando un gioco Sul gioco.it E improvvisamente Clicca questo Ma che cazzo me ne frega Dei bambini Io ci gioco Ed è divertente Cazzo me ne frega Credo che potrebbe arrestargli Il sistema Tipo a me Esatto Quando ero piccolo Ho avuto un'esperienza Con un gioco PETA Ovvero Super Cheek Sister Apparentemente Un gioco parodia innocente Con protagonisti due polli Che devono salvare Pamela Anderson Ok Al chiamibile Colonnello Sanders Del KFC Ok Allora Capisco Il pollo Il colonnello Sanders Del KFC Ma cosa c'entra Pamela Anderson Perché c'è una bionda Che sembra Pamela Anderson Scusa Ma scusa Non potevate far la trama Che salva la mamma gallina Cosa c'entra di polli Col colonnello Sanders Allupato Che vuole trombarsi Pamela Anderson Scusate Curo che non mi sto inventando Questa cosa Cioè poi il colonnello Sanders Guarda Pamela Anderson Mi fa Ehi baby Vuoi vedere Qual è l'uccello più lungo Della mia catena alimentare Vuoi vedere qua sotto Che tacchino Che ti tiro fuori Ma se è un gioco Incredibilmente pieno Di gore Tanto che da piccolo Mi mise un'angoscia tale Che non ci ho dormito la notte Quindi esiste una parodia Di Cookie Mama E di Super Mario E sarebbe veramente bello Se si fossero fermati a questo E invece no Perché esistono tonnellate Di giochi Parodia Realizzati dal PETA I tuoi amici Il tuo lavoro La tua famiglia Li prenderemo tutti Li rapiremo Li porteremo Nella nostra base Li picchieremo Violenteremo Distruggeremo psicologicamente E ti chiederemo Un riscatto Di milioni di dollari Tuo mondo Scusate Devo tornare Dallo psicologo Tutti incredibilmente Disturbanti Titoli come Un lotalize Dove sei un maialino In un macello Cage fight Dove sei un pugile Devi liberare degli animali In gabbia WTF Sei un pugile Devi liberare degli animali In gabbia Super Tofu Boy Che vabbè ok Super Tofu Boy Oh mio Dio Che tristezza Oh mio Dio Che tristezza Mio Dio Momento Grazie 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 Mover fanatino Grazie mille Per le dieci staff giftate Grazie mille di cuore Mover Grazie mille davvero Ti mando un abbraccio Un bacione Grazie mille fanatino Grazie mille di cuore Fino a Monster in Fury Dove devi fermare Lo sfruttamento degli animali Nell'industria dell'abbigliamento Stando attento A Jennifer Lopez Perchè Giuro che non sto Perchè Scherzando Ecco questi giochi Hanno tutti la stessa modalità Apparentemente innocenti Ma che poi si trasformano In giochi disturbanti Con l'obiettivo di scioccare il giocatore E fargli avere consapevolezza Della loro causa Questa tattica funziona Sì Viene accolta bene Ho avuto il piacere Di confrontarmi con molte persone Prima di questo video Alcuni non vegani E altri sì Chi per la crudeltà degli animali Chi per un discorso di ecologia E la maggior parte Hanno opinioni negative del PETA Riassumibili in Ottimo concept Esecuzione terribile Nel tempo ragazzi Le cose sono cambiate Prima c'era davvero bisogno Di urlare Ehi noi vegani esistiamo E per farlo Campagne shock del genere Erano fondamentali Ma oggi nel 2023 Tutti sanno dell'esistenza dei vegani E supportano la loro causa Ah io quando posso Li prendo sempre per il culo Quelli in piazza E quando posso Li prendo sempre per il culo Quando mi capita Che prendo un panino da McDonald's Li trovi in piazza Bologna Urlo sempre davanti a loro Che buono questo hamburger Quando posso Li sfotto sempre Cosmi Grazie per gli undici Il mattino E stra divertente Io o meno I bacucchi rimarranno tali Fino a quando finiranno Eccolo Un mondo in cui Di essere vegani Sta iniziando ad essere accettato Continuare con campagne Shock come questa Porta molte persone A non avere consapevolezza Della tua causa Anzi a respingerla E come fai a nascondere Un'idea Che ha alla base Un concetto Innegabilmente giusto Vengono creati Degli stereotipi E dei pregiudizi A cui attaccarsi E il PETA Non fa per nulla bene A queste cose Perché le alimenta Siamo nel periodo Dei diritti degli omosessuali Del cambiamento climatico Dove l'obiettivo È fare più casino possibile Per farsi ascoltare La maggior parte delle persone Sarà perplessa o infastidita Ma riuscirai a penetrare L'armatura di molte persone Che si uniranno alla tua causa Ma cosa su Sì perché gli esauriti Succede quando questa cosa Viene incredibilmente estremizzata La PETA viene presa in giro Si staura un pregiudizio di conferma Le opinioni si induriscono E quindi tutti i vegani Sono pazzi E non sono come noi Così Ma perché non è così E io Sapevo sempre Saputo che fosse così Per quello ogni volta Che ne vedo uno Li chiedo se ha preso Sempre su il farmaco giornaliero Mastercast Grazie per i noi Ah e a proposito Di animali trucidati Anche Mario Che usa il tanuki È da cancellare Certo Questo lo conoscevo Magino che l'obiettivo Fosse parlare Della pratica Di usare le pelli Degli animali Nell'abbigliamento Ma che cazzo c'entra Usare Mario Tanuki Come Non lo so Però si sono convinti Che Mario Quando indossa quella pelliccia È perché abbia scuoiato Un procione evidentemente Però Sembolo della protesta A tal punto Da fare un gioco Chiamato Mario Kill Tanuki Dove sei un povero tanuki Che deve riprendersi La sua pelle Che poi Ma è bellissimo Mica Mario Si mette la pelle Di un tanuki addosso Cioè lui si trasforma Letteralmente In un tanuki Non potevano volare basso Con il loro server Minecraft No dovevano cagare fuori dal basso Attaccando anche Animal Crossing No adesso Adesso tu mi devi dire No 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 Questa cosa qui Non l'accetto Adesso tu mi devi dire Come Come Ma Animal Crossing Come Ma scusami Ma come Non uccidi Nessuno Non fai del male A nessuno Come è possibile Animal Crossing Ma perché catturi animali Ma li metti nel museo Li metti nel museo E loro vivono lì In tranquillità In un ambiente Aperto Sereno Dove hanno tutto lo spazio Del mondo Ma scusa E questa è una storia bellissima Il peta odia a morte Blatero E chi ha fatto Perchè Quel povero Blatero A quanto pare incentiva La cattura dei pesci Per metterli nel suo museo Ma non è che incentiva Scusami Ma scusami Voglio dire Ma non è che I pesci che catturi Ci fai uno Uno shashibi Uno shuribi Eh Ci fai del shushi Cioè voglio dire Li prendi E li metti come Ma poi non sono neanche reali Ma che cazzo vuol dire Qui cosa possiamo fare Per ovviare al problema Facciamo uno sciopero In cui entriamo Nelle isole delle persone Spammiamo Empty the tank Meno male Che non ci sono le armi Su Animal Crossing Sei convinto Sei convinto Che non ci siano le armi Su Animal Crossing Perchè io Ho la base Missilistica nucleare Sulla mia isola Tranquillo Mandami le coordinate Dell'isola di Peta Risolvo subito il problema Guarda The Red Lantern Non va bene Perchè usa i cani da slitta In Overlord 2 Puoi uccidere le foche Quanti Qual è il problema Scusa Sono buone Sia da mangiare Sia da indossare le foche Thing Simulator 2 Il male In Starcraft Dai anche gli zerg Starcraft Starcraft Un videogioco Con una specie aliena Di Insettoidi Assassini Sono da proteggere Gli zerg Gli zerg Una specie aliena Di mostri Sono animali Ma scusami Ma allora Perché non Alien Alien Gli xenomorfi Hanno dei sentimenti Non uccidete Gli xenomorfi Scusami Ma che cazzo Vuol dire Ma 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 Sono Zombie Ma Legend of Zelda Il peta odia Ogni Videogioco Facendo un giro su internet Ragazzi Ho scoperto che L'opinione del mondo Sul peta È totalmente No E avete ben capito Perché Non fanno qualcosa Di sbagliato È il modo in cui Lo fanno Che ha infastidito Nel tempo Molte persone Che poi hanno iniziato Ad attaccare L'organizzazione Soprattutto a spotterla Ho letto commenti Assurdi Come Hitler era un vegano E proteggeva i diritti Degli animali Ironico Sì Vabbè Ma Sì Vabbè Ma questa È una cosa Che io Dico Per far incazzare La gente Però non puoi usarla Come argomentazione Non è Cioè Il problema Cioè Questa è una È una battuta Se la fai Per far incazzare I vegani Ci sta Ci sta La capisco Per farli incazzare Ci sta Perché l'ho fatta anch'io Però non puoi dirla seriamente Nel senso Abbi pazienza Non è che Cioè Se A È B Allora Tutte le persone Che sono B Sono come A Cioè Non è che Se Hitler Era vegano Ogni vegano È come Hitler Cioè Non funziona così La cosa Nel senso Jerry Grazie per la sabbatina Cioè È come dire Se Jeffrey Dahmer Era gay Ogni gay È un serial killer Cannibale No Cioè Non è che funziona così La logica del mondo Non funziona esattamente così Però Va bene lo stesso Loro sono contro gli animali domestici L'industria della carne inquina Ma anche quella vegana Forzano diete vegane agli animali domestici Anche questo è un abuso Hanno ucciso tantissimi animali Internet ragazzi è questo Pareri e commenti ovunque Farsi un'opinione è importante ragazzi Ma un'opinione non si crea Ascoltando quello che dice il tuo youtuber O il tuo streamer preferito Oppure leggendo dei se Come no Che cazzo dici Cioè Ovvio che un'opinione si fa ascoltando me Perché io ho sempre ragione Che cazzo dici Pemplici commenti Al massimo possono darti un input Per ragionare Farsi un'opinione con la propria testa Su internet È essenziale Internet è una fonte inesauribile Di informazioni Quindi Naomi Aspetta me Che cazzo è cazzo Quindi Naomi Visto che è vegetariana È semi Hitler Certo Naomi si chiama Naomi Eva Brown Di secondo Ecco Grazie per E anche biondo occhi verdi Quindi è perfetto È perfetto voglio dire È anche ariana Quindi Sto scherzando Non sono serio Coso È una battuta Curate o imparziali Sviluppare il pensiero critico Ci protegge dalla disinformazione E ci aiuta a formare opinioni ben fondate Assumersi la responsabilità Di valutare attentamente le fonti Ci rende partecipi E consapevoli del mondo digitale Sul web Farsi un'opinione È come cucinare una pizza Prendi una base di informazioni Aggiungi il contimento Del pensiero critico E mescola bene Con una buona dose di umorismo Gli animali nei videogiochi Sono finti Ma secondo questi abbonati A Trenitalia Uccidere animali Nei videogiochi Incinta Ad ucciderli Nella vita reale Incinta Torniamo al discorso di prima Che secondo i boomer Uno commette Violenza sessuale Su una ragazza Perché ha giocato Troppo a GTA Cioè certamente È ovvio È proprio così Se i videogiochi Incitassero A replicare Le azioni Dei videogiochi Io a quest'ora Sarei ricercato Dall'FBI Dall'Interpol Dalla CIA Dal KGB Dal SISMI E in generale Dalle forze internazionali Dell'ONU Perché avrei fatto Stragi Omicidi Massacri Attentati terroristici Cioè genocidi Voglio dire Mi piacciono i pigelli Grazie per i 16 Loro Grazie per i 15 Cioè voglio dire Raven Grazie per i 13 Il motivo Per cui noi Queste cose Le facciamo nei videogiochi È proprio per evitare Di farle nella vita reale Cazzo Se tu quella cosa Non me la fai fare Nel videogioco Io poi la faccio Nella vita reale Porca madonna Hai capito Io torno a casa Dopo Non io Io però Una persona torna a casa Dopo 8 ore di lavoro È stressato Ha la moglie Che gli ha fatto magari Un pranzo di merdo E i figli che rompono i coglioni E dopo tu ti siedi Accendi il videogioco E puoi Sterminare la specie umana Con delle armi termonucleari E allora ti rilassi Dici E anche oggi Ho soddisfatto la mia voglia Di misantropia Sterminando la specie Ti acquieti Ti rilassi Perché Hai sterminato Tutto lo sterminabile E quindi sei più rilassato Perché Lo fai lì Perché non lo puoi far Nella vita reale Se tu non me lo fai far Nei videogiochi Poi Io comincio a rubare macchine Ammazzo prostitute E investo le persone Il risultato Scusate Chiedo scusa È stato un momento È stato un momento Di Una pizza fottutamente buona Ma diciamo che la peta Non ci aiuta A essere buoni E coccolosi con loro Anzi ogni volta Si mette contro Tutti quanti Succede che la peta Attacca pokemon E internet esplode Per forza Pokemon no Pokemon Non lo puoi toccare Mitino Grazie per i quattro Baratino Gli streamer Che reagiscono a questo video E si incazzano Quando ricordo alla gente Che devono iscriversi Grazie alle masterclass Di accademia.tv Scoprirai i segreti Dell'alta cucina In Il mio canale Come fai ad attaccare i pokemon Tutti amano i pokemon Dobbiamo vedere del marzo Proprio in tutto Ecco per la peta I pokemon Sono il male Perché Gotta free em all Dai Si ma i pokemon Oh mio dio Ma perché abbiamo tutti Abbonati E tu ritorno Peta come fai A rompere le palle Ai pokemon Io non capisco Un cazzo di pokemon Ma come fai a sapere Cosa c'è dentro una pokeball Magari c'è un appartamento Di lusso Si esattamente Quello che c'è Il creatore del videogioco Anzi il creatore Dei pokemon Ha detto che le pokeball Sono come dei mega appartamenti Dei mega attici Andrea ma tutto a posto Quel bernoccolo Si Sicuro che sei a posto Si ogni volta che sento Strontati Cresce sempre di più Infatti non so Se stanno dopo Tocteau È diventata enorme Tra poco mi verrà Una seconda testa Salva i pokemon Che vengono maltrattati In un episodio Li mette in salvo In una pokeball Mentre lui sta per morire congelato Riolu si evolve Il lucario per felicità Esiste il parametro amicizia Che più tratti bene Il tuo pokemon Più lui si fortifica Ma soprattutto Pokemon si basa Sul rapporto tra allenatore E il suo pocket monster Che non è un animale Cristo dio E non Sulla caccia E soprattutto Non promuove Il combattimento Tra animali Dai basta Ma il peta Non contento Ha voluto realizzare Ben due giochi Parodia di pokemon Io non ho idea Di come facciano Con il copyright Il primo è Pokemon red White and blue E superato il fatto Che fa altamente cacare E forse le mie crocs camo Sono più belle Belle? Il concept è che C'è un tizio a caso Che mena i tuoi pokemon Fina Ronald McDonald Ovviamente Chi è che mena i tuoi pokemon Ronald McDonald Ma perché? Povero Ronald Ma perché? È così simpatico e carino Povero Ronald Perché è diventato Un picchiatore di pokemon Ad ucciderli Ad ucciderli con una mazza Da baseball Mentre i poveri pokemon Indifesi Provano a dissuaderlo Con parole di amore E abbracci Che tristezza di merda Ma cos'è sto schifo? Vi giuro se non mi credete Dovete provarlo Mentre il secondo È pokemon black and blue Stesso concept A differenza che Ogni tanto nel gioco Ci sono dei forzieri Con un premio Questo premio È un video E nel malaugurato caso In cui la preate Boom Vito di animali Che vengono trucidati Sì vabbè ma questo è classico Cioè è da sempre Che cercano di far leva Sulla sensibilità Delle persone Sull'empatia Cercando di non farle più ragionare Facendole vedere cose crudeli Cioè Esattamente Questa strategia Funziona però Funziona Perché Nulla Ti manipola più mentalmente Delle emozioni Delle sensazioni di rabbia E paura Ragazzi Guardate che La rabbia La paura E le emozioni Scientificamente parlando Non sto scherzando Abbassano La capacità Logica La rabbia La paura Il disgusto Tutte quelle emozioni Letteralmente Abbassano La capacità Logica Delle persone Non è uno scherzo La verità Ah che bel bar Grazie per gli otto Paratino Ed è la stessa cosa Che usano i politici Ragazzi I politici Lo sanno Lo sanno Lo sanno Che dicendo in televisione Quello ha stuprato Quella Quello è Veniva da un altro paese È un immigrato Questi vengono qui E la gente si incazza E quando la gente si incazza Non ragiona Lo sanno Ragazzi lo sanno Andrea ti faccio una domanda Un po' assurda Se gli alien Atterrassero sulla terra Secondo te Qualcuno Sopravvivrebbe nel mondo O verremo uccisi tutti No Dipende Scusate il mess lungo Dipende 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 quanti in a terra Se pochi sopravviviamo Perché siamo tecnologicamente avanzati Molti dipende Grazie per il ciro Davy Grazie per il 22 Paratino Lo sanno ragazzi Lo sanno Anche quegli altri Quello è annegato Hai visto Lo sanno anche Ci prendono per il culo ragazzi Ci prendono per il culo Perché lo sanno E quando la gente Pensa con la pancia Non pensa col cervello Quindi Manuel Grazie per il 21 Paratino Che a quanto pare Molti ne avevano paura Ma non è È lo stesso clown Da cui Stephen King Si è ispirato Per il suo libro No Stephen King Si è ispirato al clown Quello ciccione americano Il serial killer Non mi ricordo il nome Ma è lui Stephen King It si è ispirato A quel clown Che è quel serial killer Americano Che si vestiva da clown Alle feste per bambini E poi Eh Pogo il clown Non Ronald McDonald Come fa a farti paura Ronald McDonald Cazzo Cioè voglio dire Nell'internet È saggio navigare Con rispetto e comprensione Che trasformare sconosciuti In nemici Non solo abbenena la rete Ma abbenena anche il cuore umano Farsi nemici su internet È come una battaglia Con i pollici Se vinci Non vinci un cazzo Ma devi trovare Con il pollice Che ti fa male Ragazzi Mantenete un equilibrio Tra umorismo E rispetto E ricordate che il mondo Tra umorismo e Non ho capito Fondo scusate Un posto migliore Quando ci sono meno estremi E più comprensioni Adesso scusatemi Ma devo andare Mi sono dimenticato Di dare da mangiare Al mio cane Su Nintendogs Negli ultimi dieci anni Alla prossima Grande Fondo Lupo Grazie per i set Fatino Grazie mille Per il risav Allora Poi Volevo vedere anche Abbiamo un paio di Ratorix Da vedere Lo curioso Vediamone uno Dai Ecco perché Non dovresti fidarti Delle apparenze E tra l'altro Perché c'è il cartonato Perché c'è il cartonato Di Poldo Ma va bene Non ho molto tempo Questi sono i documenti segreti Su cosa ha fattorato Ratorix nel 2010 Da come potete vedere Dentro questa scatola C'è ancora Oggi ragazzi Che due deficienti che sono Oddio Che ne è sbagliato Non è Fabio DJ Daremo un'occhiata Ragazzi fateci Perché alla voce di Fabio DJ Dicevo che cazzo Fate i video di plot twist Una passenger princess Ah Oddio Ragazzi pensavo Adesso non fossero delle gambe Che cazzo Ragazzi dicevo Che cazzo Dicevo Quanto è lunga questa persona Forse ho un attimo Sbagliato Che gambe Che gambe Che ha creato Delle gambe impegnative 16 metri di gambe Se calcoli Mi posso dire una cosa Tipo a metà strada Pensavo Wow Ha delle gambe davvero lunghissime Si è vero Si è ispirato A quel serial killer Tuttavia Ha scelto di rappresentare Un clown A causa di un trauma Legato a Ronald Oh Un porso Così ho sentito Magari è vero Magari è vero Io non lo sapevo Questa cosa Grazie mille C'è il baratino Phillips Grazie per il 22 Baratina Grazie mille per il santo Non è una ragazza Oddio Oddio Mi ha proprio trollato Mi giuro stavo per dire Fai la modella Invece no Al massimo ho fatto Fai il gonfiabile La bambola gonfiabile Da modello Per qualche impianto Non saprei Aspettate fino alla fine Che c'è? Che hai visto? Vuole mangiare I capelli Tipo Le strappa I capelli Che schifo Questa cosa qui Non devo Non devo Mai E dico Mai Farla vedere A Naomi Perché lei C'ha il gatto Che le va sempre A ravanare I capelli Non la devo Mai far vedere A Naomi Sennò va nel panico Va nel panico Più totale Oddio No raga Io tipo Mi sarei lavato Quattro volte La testa Dopo questo Che schifo C'era un bagarotto In testa No raga Mamma mia Non ci posso Credere Avrei bruciato la testa Come Naomi In live Ma che cazzo Spero Spero di Non mi serve più Guardate quanto era grosso Come facevi a non sentirlo Vabbè ma in mezzo ai capelli Cioè È arrivato Guarda Uno snack Chiamo la polizia Ecco guarda Ti accompagno Te lo dico Io do fuoco Direttamente alla casa Vaffanculo Una corda Va bene Un ragazzo Membro della Z generation standard Nulla di strano Crollino Grazie per il 18 Palatino Un ragazzo con una corda Ok Va bene Cosa stai facendo Ah Ha fatto il tiragrappi Ovvio Ovvio che era un Robo per far Per far Sì Ho pensato subito a quello Assolutamente quello che pensavo Sì Anch'io Anch'io Per grattare le unghie Del gatto Io pensavo fosse uno Della Z generation A cui è caduta la forchetta Per terra E ora non sapeva più Come vivere Perché la disperazione Di questo gesto L'ha mandata in depressione Non è per dire Una buona parte di voi Si deprime per ogni stronzata Quindi Sì Che ce l'avete pensato male Io non avrei mai pensato male Ma che vi pare Questo lo conosco Questo lo conosco E lo seguo Perché È È È L'uomo Cioè È il ragazzo È il ragazzo Più donna Che abbia mai visto Questo ragazzi È stranissimo È stranissimo Questo qui È un ragazzo E neppure E neppure Stramuscoloso No È un ragazzo È un ragazzo Lui è bellissima Cos'è sto casino È per forza un ragazzo Lo sapevo Lo sapevo Raga ormai ho il radar Ok vi posso È stranissimo Cioè lui è stranissimo Non si capisce un cazzo Cioè com'è possibile Non lo so Penso sia un fanboy Aveva detto che era un fanboy Credo Non lo so È Loki È un misto Ti attizzo Viso carino E muscoli Il mio pene è confuso Non lo so È una Scusate È una battuta È una battuta La dottor house Che se la facessero oggi Nel telefilm L'avrebbero già L'avrebbero già L'avrebbero già Bannato C'è una puntata Di dottor house C'è una puntata Di dottor house Dove lui cura Mi pare Una bodybuilder Non mi ricordo Una che fa palestra Credo Allora Non mi ricordo O era un transessuale Non mi ricordo Allora praticamente Lui la vede E c'è l'autor house Che la vede E la guarda e fa Curve Muscoli Il mio pene è confuso Se ci provassero A farla adesso Una battuta Quel giorno d'oggi Non sono solo Le automobili Ad essere ibride Al giorno d'oggi Però lui è veramente strano Ho imparato Da Big Bang Theory Una cosa che è troppo utile Guardate il pomodadamo Dipende Ci sono alcune donne Che ce l'hanno Il pomodadamo Il pomodadamo dice tutto Non vi fregheranno più Chiedo scusa a tutte le ragazze Col pomodadamo Buonasera Bentornato A per cento dei casi È giusto Si chiama pomodadamo Per un motivo Ok Pensavo che il nostro amico Fosse a casa da solo Signori Guardalo Te gusta la mangusta Guardalo Ha preso la mia frase L'ha fatta in una maglietta Guardalo Domani Alle nove di sera It Ma sono proprio entrati così Con la No 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 Piano Non ho capito Cazzo Si chiama pomodadamo No per un motivo Pensavo che il nostro amico Fosse a casa da solo Ma sono proprio entrati così Con la canzone Ma che siete pazzi Ok Vabbè Dai Vabbè signora Se la prende a ridere Vabbè dai Se la prende a ridere Dai Voglio dire No La madre Ciao Andrea Stavo recuperando la tua serie Su Hollow Knight Ma vedo che ad un certo episodio Si è interrotto Si l'ho interrotta io La serie l'hai interrotta Oppure non lo so Non sei riuscito a pubblicarla No l'ho interrotta io Grazie Andrea E le offre un prestito All'Udinese Con diritto di riscatto Cazzo per il cimandino Mi è successo una volta Una cosa che ho dico a Simone Ma tu cosa su Ma si vabbè Dai dipende Inizia a suonare il campanello Qualcosa per tipo 3-4 minuti di fila Ta 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 Apre sua madre Io tipo Ups C'è Simone La mia fortuna è che La madre di Simone Ormai mi conosce E sa che sono Un deficiente Quindi per questo Ormai non ci fa più caso Un po' come le madri Di tutti i miei amici Hai il kinder sorpresa? Allora Partiamo dal presupposto Che non ho il kinder sorpresa Io ho il kinder max Anche questo la conosco Non aveva il pomo da d'avo Ups Ok Anche questo lo conosco Oh no Hai dato del maschile A una ragazza transessuale Ribellione Domani Video dirette Inchieste FBI In casa Irruzione Delle forze speciali Distruzione Del mio appartamento Scusate Che mi ha fregato Oddio se devo essere sincero Questa Scusate Cosa vi ricorda Quando scegliete la vostra voce Nei videogiochi Che era su Ark Che potete scegliere Il tipo gigante E la voce femminile Bellissimo O viceversa Ovviamente Nessuno ve lo impedisce Un cuore al mare Va bene Per favore Per favore Non mi dire Per favore Non lo fare Che cazzo Per favore Non lo fare Non so che cosa L'ho fatto È Ma è una Ma che figo Art Ertu Grazie per i venti Ma che figo È una Ma dai Ragazza È fatta benissimo Sembrava tantissimo Della terra Della sabbia Al mare È fatta benissimo È torta È tutto torta Che figa Ma dai ragazzi È fatta da dio Io raga Basta Io non Non è possibile A me non pare Anche la lavastoviglie È torta Fede Grazie per i quindici Sbisbo Grazie per i quindici Sì Ma Ah certo Figo Tutto è una torta Ragazzi Dopo quando di là E comincia a coltellare Il microonde Sperando di venire fuori Una cheesecake Ci siamo La lavastoviglie È torta Il forno È torta Tutto è torta Tutto è torta Qualsiasi cosa Vostra madre È una torta Andate a coltellare Vostra madre È una torta Ammazzatela Bambini Sì ma a sto punto Vai Ma vola Ecco Dai che c'ho voglia De mangi a me pure Un po' di luce Già che ci siamo No Forza Sono diventato Un pannello Foto Massimo Grazie per i quindici Io regalo Non ce la posso più fare Oh la torta A forma di Questa è un'insalata Che potrei mangiare Anch'io in effetti Se la taglio E dà il cioccolato Con panna Sì 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 Hanno rotto le palle Non è possibile Ormai rega io lo so Il mio canale Che poi farà schifo In realtà Che poi secondo me Fa schifo sta roba Ve lo dico È bella da vedere Ma secondo me Ha un sapore di merda Sta torta qua Tutto è torta Un coccodrillo Penso Ok Già che ti ha puntato Ah ok C'è il pesce Va bene Non credo Si è interessato Al pesce Credo Che non sia proprio Subito Subito Interessato Al pesce E' meglio Che lo fai partire L'ultraestinto Ha fatto Obiettivo Localizzato Procedo Con l'attacco Normale Giornata A capanzare Aroma Che Let me tell you Something Let me tell you Something E' arrabbiata This morning He really pissed me off You know what he did What He opened the door For another girl No No Sei pazzo No Non devi mai Aprire le porte A una ragazza Non devi mai Neanche salutare Qua Allora Prima regola Se devi chiedere Indicazione A una ragazza E hai affianco a te La tua fidanzata La corretta La corretta esecuzione Non è Ciao Scusa Potrei chiederti Dov'è questo posto Lei ti risponde Tu dici Grazie mille Perché dopo La tua ragazza Ti guarda E ti fa Che dov'è questo posto Grazie mille Ho visto che lei guardavi il culo Sei proprio un maiale No Non potevi chiedere Indicazione Al ragazzo Più avanti Proprio a quella ragazza Che è anche carina E qui Se vedete chiedere Un ragazzo Devi fermarla E fare Ehi Stronza di merda Sei brutta Come il cazzo La mia ragazza È più figa Di te Vaffanculo Dov'è il bar Questo è la corretta Esecuzione Di richiesta Di indicazioni A una donna Nel caso Abbiate la fidanzata Di fianco Mi raccomando Prendete appunti Oh no Però in questo caso Oh no Come si permette Quest'uomo Aprire le porte Ai disabili Disgustoso Ti rendo io disabili Aprire le porte Ai disabili Aprire le porte Alle donne Facevi Dunque Abile se non la smetti Ecco Con quale audacia Ai ragazzi di oggi Assurdo Whole Foods Market Che cazzo Non sono sicuro Sia reale Questa cosa Ma che figata Forse Non sono sicuro Sia proprio reale Questa roba qui Che Ok si Anche qui Funziona Perfetto Questo l'abbiamo capito Siamo sicuri Che funzioni Oh Tu no Perché sei brutto Come la merda Wow Oh mio dio Mi sento un attimo Non lo so Ho imbarazzato Non me l'aspettavo Va bene Accetto la tua proposta Possiamo Vabbè Rathory Se ci vai tu Io passo Uscire se vuoi Che comunque Io sono abbastanza sicuro Che funzionino col calore Sì però Non sono sicuro Se anche gli scontri in Italia Funzionano Devo provare Devo provare Non con la pressione Quindi boom È uomo Andre E quindi Qual è il problema Perché al giorno d'oggi Esistono ancora preferenze Uomo donna Non farlo Omofobo Transfobico Di merda Per cortesia Cioè anche se sei etero Succhia quel cazzo Succhia un cazzo Non rompere i coglioni Dai smettila Per favore Anche perché c'è questo taglio Molto sospetto Qua in mezzo Che non lo so Non mi convince Smetti di fare l'etero E vai a vedere Il film di Barbie Però Accetto comunque la proposta Un gatto Raga Se ha detto di sì Che cazzo Va bene Vede questo è un gatto Che rispetto Non si dire indietro Alle offerte di business Meglio di così Personalmente Che carino Io provare a tagliare Le unghie a Nala È impossibile Ve lo dico Cioè Nala Piuttosto che farsi tagliare Le unghie Ti apre in due Un avambraccio Non avrei potuto chiedere Stupendo Stupendo Mamma mia Djokovic Oddio Sarebbe Non sa Eh Aspettate un attimo Come Sapete che c'è Che cazzo vuoi Può essere anche un falso invalido Che cazzo Non seguo molto cose come Le paraolimpiadi O i giochi Generalmente Dove si gioca Vabbè ma infatti Lui l'ha ingannato Era le paraolimpiadi Ma lui non era disabile Dal punto di vista fisico Che non poteva usare le gambe Era semplicemente Un terrapiattista Quindi Effettivamente Era un novax Ci sta che partecipi Alle paraolimpiadi L'ha ingannato Però Con la sedia a rotelle E cose del genere Ok Ma penso che questo Sia leggermente Contro le regole Vabbè però Finchè funziona Regà funziona Ma che oggi Eh Ludo Sono in carenza di cattiverie Mi dispiace Patatine Sono nove giorni Che non dico Delle cattiverie Ti rendi conto Di quanto io Sia in astinenza Cioè voglio dire Però mi fa ridere Che c'è rimasto pure Offeso l'altro tipo Dice ma dai Ma non era Non era Era un terrapiattista Ma è ingannato Ha buttato via la racchetta Boh vabbè Non lo so Non devi rosica Hai perso Via Esci Senza parole regà Dov'è lo spirito di sport Devi essere contento Per il tuo avversario Altro che questo Ripeto per l'ennesima volta Non comprate Gli aspirapolveri Con la luce verde Perché sono un inganno Per la vostra esistenza Sono un inganno della vita Pensate Che qui sia pulito Insomma si È pulito Un bel parche pulito Poi spengi La luce E si trasforma Nella pattumiera Che neanche nella discarica C'è questo sporco Che poi qui Qui I cani Non ci possono neanche venire Perché sono chiusi Hanno la porta chiusa Vedi come è possibile Che ci saranno tutti Questi feri Ma in realtà Non serve a un luce verde Martì Grazie per i 14 Martino Grazie per i sabbi In realtà non serve a un luce verde Tutto quello che devi fare Per vedere quanto fa in realtà schifo la tua camera È Spegni la luce della tua camera Alzi le tapparelle All'alba O al tramonto Secondo di dove è l'angolazione della tua casa Aspetti che la luce di fuori In maniera angolata Colpisca il tuo mobile E vedrai Tutta la merda Possibile Immaginabile Come accendi la luce Sparisce Come accendi la luce Sparisce tutto Come spegni la luce E viene un filo di luce da fuori Vedi tutta la merda Sui mobili Non serve la luce verde Infatti io pulisco sempre veloce Accendo la luce Ed è pulito Io risolvo così il problema Raga mi posso dire una cosa Se devo essere sincero Penso che questa qui sia una pubblicità Molto migliore per la Dyson Delle loro pubblicità È vero effettivamente mi ha convinto La stessa Io guardando questo video Mi è venuta voglia di comprare Questo aspirapolvere Ma che figata Poi lo so che ogni volta Mi odierei Perché vedrei tutto Quanto il bordello che sta sul pavimento Ma ne vale la pena Non è un video sponsorizzato Ve lo dico Vedete questo strumento È troppo potente Per essere di libero utilizzo Io quando mi ricordo di avere Lo spontaneo arbitrio La volontà Ok E si alza Vabbè questo è Che strassata Tipica scena che si vede in Italia Quindi non è che Sì molto spesso Sto sorpreso eh Sapete quante volte l'ho visto fare Davanti a un parcheggio dei disabili Qua a Roma In Italia Ne avete idea È tutto normale In Italia Tranquilli A posto Che comunque raga Io lo so che ci sono certe persone Che possono camminare Ma hanno bisogno di una sedia a rotelle Quindi per questo in genere Era il tellista di prima Ma cosa se si mette pure a saltellare Manca poco Ve lo dico Lo sapevo C'è i gatti impazziscono Anche i gatti impazziscono Ti giuro che ti farà morire dalle risate Si chiama Ho il K Asterisco Asterisco Come Ti prego Ascoltala La conosco già Magari più avanti La riascolto Grazie per le dire Però è vero I gatti impazziscono Anche Nala fa così Cioè Nala ragazzi Mi ha fatto una cicatrice Qua che mi durerà per sempre È completamente pazza Cioè tu la carezzi Prima ti comincia a leccare Poi ti dà un mozzico Poi ti squarta il braccio Poi con le zampe posteriori Comincia ad aprirti l'avambraccio E tu sei lì che Ah Quindi tu la prendi per il coppino La tiri all'indietro E il gatto va così E tu mollami Mollami strozza di merda Che poi tra l'altro Mi è sembrato di capire Mi è sembrato di capire In alcuni studi Che loro fanno così Perché tipo vanno in overdose sensoriale Cioè tipo se tu accarezzi troppo i gatti Gli dà una scossa tipo un'elettricità Che inizialmente tipo è piacevole Ma dopo diventa come una sorta di Non so Avete presente quando a voi viene tipo Quella sensazione Quel prurito Quella sensazione che tipo Prenderesti a mozzichi qualcosa Oppure ti viene proprio da strizzare Cioè è tipo ecco È tipo una sensazione che loro provano E quindi consigliano Consigliano di non accarezzare i gatti Troppo tempo nello stesso punto Di cambiare Di cambiare Così non vanno in overflow sensoriale Non ti aprono un braccio Questo è ogni gatto sempre ever Ma perché lo fanno? Per quale motivo lo fanno? Rega me lo spiegate? Cosa gli abbiamo fatto di male? Perché ci mordono? Maledizione E poi io con Nala facevo anche altri giochi Cioè Nala quando cominciava a far così Io delle volte gli ficcavo la mano in gola E lei la lingua faccia E io hai due scelte Stronza di merda O togli via le unghie O ti soffoco Togli le unghie Togli le unghie O ti strozzo Gatto di merda Quindi dopo un po' Ceneva anche lei Perché Ciao Che poi un'altra cosa divertentissima Da fare coi gatti Quando sbadigliano Ficarle un dito in bocca Quando i gatti sbadigliano È bellissimo Ficarle un dito in bocca Che fanno? È divertentissimo Vedo di te in bocca ai gatti Quando sbadigliano E dito Ma scusami Che cazzo Scusami Scusami Che cazzo è La biblioteca della bella e la bestia Che cazzo Cioè o tu sei alta 47 centimetri Oppure Cioè Decisamente non sembrava così grande la stanza Sì vabbè ma sta qua è alta A 26 centimetri Però dai Cioè scusami Mamma mia Ma è altissima Ma dov'è? Dove sei? Ma dove sei? Ma scusa Che cos'è sto posto? Cosa è la casa di Bruce Wayne? Ma vive in un castello Dove cavolo sei? Mi ha decisamente bambuslato Con quella lampada Non so perché Mi sembrava molto più piccola Di quel che effettivamente non fosse Però Se ci penso Cioè Sti divani Non è che sembrano Chissà quanto piccoli Ecco Assurdi No più che altro Abbiamo una persona La faccia di rato Pelata Wow Non è pelata Sta facendo il cosplay di Yachi Mishima Dai Non è pelata È il cosplay di Yachi Posso dire una cosa? Sembra un po' il Dottore Eggman No è Yachi Mishima Palesemente Dai no è tantissimo Yachi Cioè non dire stronzate È proprio lui È proprio lui Dai cioè È non dire cazzate È lui È tantissimo lui È letteralmente È letteralmente È letteralmente Yachi Cazzo È il cosplay perfetto È il cosplay perfetto Deve farsi crescere i baffi Spararsi le sopracciglia in altro Vabbè Lasciamo perdere gli 80 kg di muscoli Però Dai Fallo pelato in mezzo È tantissimo Yachi Se deve essere sincero Oh wow Sì Sì Ottimo Più che altro se deve essere sincero è quasi un jumpscare all'inizio quando si toglie i capelli Madonna ma che è? Sembrava una persona totalmente normale Invece Non c'è più niente È diventato un uovo Magico Ok posso dirvi Ho avuto appena un effetto Mandela della Madonna Dottore Eggman me lo ricordavo con i capelli No Dottore Eggman è pelato Ma no No ma perché ti confondi con i baffi Dottore Eggman è pelato C'ha i baffi lunghi Non i capelli Daki grazie per i 14 Padatino Andrea grazie per i 14 Invece è pelato Perché me lo ricordavo con i capelli Perché c'ha i baffi che sembrano i capelli per quello Nel senso Questo più che altro se deve essere sincero sembra Garo di One Punch Man Guardate Stessa persona Solo che qua c'è i capelli bianchi Ma vabbè lo stanno tra un paio d'anni Se ce li ha ancora Sedetevi dritti Questo non è decisamente dritto a casa mia Però Questo è il classico L'effetto illusorio Che tutte le ragazze usano durante le foto Le ragazze barano Le ragazze durante le foto C'ha un motivo se si mettono così Col culo in fuori Si mettono così col culo in fuori Perché se non si mettono col culo in fuori Viene fuori una panza della madonna E il culo piatto che sembra una tavola da surf C'è un motivo È come quando noi I uomini facciamo le foto E facciamo Amore Fai la foto Sono magrissimo Veloce È lo stesso principio che qui È lo stesso principio Con quei uomini Con quelli uomini Facciamo la foto Panza in dentro Petto in fuori E infisema polmonare Perché non stiamo più respirando Ci sta vedendo una sincope cerebrale Madonna mi ha stunnato Ma che cos'era? Quando? Come? Perché? Cioè voi mi state dicendo che basta così poco per raggiungere questo? Devo imparare a stare dritto Basta Che poi parlando di cose che sono dritte Attento Ralt Non funziona col pisello questa strategia Te lo dico Questo suona male Vado dritto al punto È finito il video Ma non è vero Cosa succede? Dai Calimero Su Calimero Contempareremo Un po' a giocare Un po' a ballare E alle appuntare Poi avvisi che le balline Saranno buppe le tabelline E con l'aiuto delle oghette Impareremo quella del sette Sette per zero Zero Non lo so Il mio nome è Calimero Non sto Sette per uno Sette Gioco con la minchia Occhette Sette per due Quattro Gioco con la minchia Ho capito Nel home player Grazie per i dieci Lo sto guardando Lo sto guardando Sono simpatico come nessuno Sette per quattro Ventotto Gioca a carte Con mio sacchiotto Cazzo Sette per cinque Trentacinque Sono la gioia Di bimbi e bimbe Oddio Non lo so Occhette per un po' A giocare Oh madonna Mia l'intelligenza artificiale Perché fa la voce così Un po' a giocare Poldo Che cavolo fai Oddio È uscito molto meglio Di quanto Del sassi Va bene Va bene Poldo Impareremo Quella del set Inteso come età Sette per sei Quarantadue Vado a scuola Pino alle due Cosa sta succedendo Sette per sette Quarantanove E poi gioco Anche se piove Sette per otto Cinvantasei Ma mattino Mi alza gli sei Sette per sette Cosa sta facendo Un po' a toccare Un po' a toccare Un po' a toccare E tanti a contare Poi gli amici Che le palline Saremmo tutte le tappelline E con l'aiuto Delle occhette Impareremo Quella del sette Oh che cazzo Niente Ratorix Stai impazzendo Sempre Più passano gli anni Più stai impazzendo Completamente Ora vediamo Un attimo Oh allora Ci sono due cose Che volevo vedere Due cose interessanti Una è un video Di MrBeast Vacanza da un dollaro Vacanza da 250.000 dollari Oppure compro I prodotti peggiori Da una stella Su Amazon Vai Voglio vedere questa qua Mi ispiro un sacco Vai vecchio Un po' alto Come ben saprete L'internet è pieno di truffe Scam Prodotti Puzzolenti E oggi Signori e signore Ce le cucchiamo tutte Space Grazie mille L'obiettivo L'obiettivo andare su Amazon È andare a prendere I prodotti Con tipo una stella Cioè quelli che fanno schifo Ok Che tutti sconsigliano Perché riprenderemo noi oggi Assolutamente Questo mi interessa un sacco Vederlo La scienza Per la scienza Per il popo Direi di non perdere tempo E cominciamo Primo link Affettatrice per anguria Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo È una fetta Scusami Posso chiedere Adesso Adesso poi Sicuro dalla chat Mi direte No ma Andrea Esiste Ma chi cazzo È che si mangia L'anguria A cubi Chi è Il malato mentale Che si mangia L'anguria A cubi Ma che cazzo Cioè praticamente Taglia a metà L'anguria Poi con questo Fai così Prima di un motion Incredibile Ma che cazzo I pezzettini così Ti chiamo le recensioni Cosa dicono Intanto non funzionerà mai Il mio voto È meno dieci Magico Il suo utilizzo È pura fantasia E distrugge i cocomeri Ma per forza Cioè Non ci sono video Del suo utilizzo Non ci sono video Del suo utilizzo Dobbiamo risolvere Questa situazione Assolutamente Ah eccolo qua No ma vecchio Che schifo Cosa Pieno di polvere Guarda che roba Guarda troia L'anguria al colera Dobbiamo lavarlo Sto coso prima Io non ho parole Minchia ma puzzambotto St'anguria Io non ho paura Fate anche il colore Un po' strano Di quell'anguria Ma siete sicuri Che non siano state coltevate Vicino a Cernobil No perché Guarda anche l'aspetto È chiaramente male Infatti questa anguria Ha qualcosa Che non Io te lo dico Questa anguria Ragazzi ma sembra Che gli ha Ma sembra Il rossetto Sembra che gli hai Messo il rossetto È quel rossetto rosa Che si mettono Le ragazze Su le labbra Guarda che cazzo Che cos'è sta roba È possibile Vabbè Ascolta Vabbè tanto è solo Per provare il taglio Non è che Non siamo qua Per testare la qualità Di quest'anguria Ma per testare La qualità Di questo coso Secondo me Devi metterla dentro E tirare Devo tirare così Secondo te Scusa se adesso Faccio così Cosa esce Oh Ha fatto qualcosa Ma scusa Sono tagliati Sti pezzi Beh proviamo a farne un po' Esatto Entra dentro E ti Bello Bello Tira Proviamo a vedere Oh Oh Guarda qua Comunque il suo lo fa Quindi Sì hai fatto Un purè d'anguria Però sì Cioè Hai fatto Hai fatto Un'anguria tritata Una frullata d'anguria Bello Comoda Funziona o non funziona Questo Io direi che questo prodotto È approvato Questa anguria no Prossimo prodotto Proiettore per smartphone Questo è figo Cioè tu metti Lo smartphone Lì dentro E poi ti proietta Tutta sta roba Sì sì Ultra HD Io ho qualche dubbio Ma Noi abbiamo la mente aperta Quindi Leggiamo le recensioni Non capiamo niente Non capiamo niente Stessa recensione Stessa cosa che ho detto io Durante analisi 2 All'università La cam Aspetta ragazzi Ve la sposto Così vedete Così vedete Tanto non si è visto un cazzo Comunque Ne immagino Fa partire un film Vediamo l'interno del pacco Eccolo qua Minuscolo Adesso escono un sacco di film fighi Non vado mica al cinema Io a guardarli Mi guardo Su questo coso Di carta Hai fatto tutto di carta Ma io stavo guardando Che qua C'è tipo una superficie Che è fatta per attaccarci il telefono Ah sono tante ventose Sì Come vedete è arrivato il buio Quindi Ma cosa costa Un euro e ventiquattro Sto coso Scusami Ti testiamo Anzi facciamo una cosa Proviamo proietta Tu non dirmi cosa proietti Io devo capire cos'è Oh Ce l'hai fatta? Sì ce l'ho fatta Ok bene Spegniamo la luce Vediamo se funziona Oh si vede qualcosa Ma cos'è Ma cos'è Oddio ma è il massaggio ai piedi Ma che cari Sì ma che cos'è Scusa Cioè No no 154p è un complimento Questo qui è letteralmente a 26p Cioè non si vede niente Ascolta Nella videocamera siamo neri La gente sta vedendo uno schermo nero Non si capisce nulla Qui in mezzo Basta Madonna mia è a 2p 5 stelle su 5 Guardiamo il prossimo prodotto Un paio di guanti da nuoto in silicone Cosa sono i guanti da nuoto? Che cosa sono i guanti da nuoto? Scusa Ma che cos'è sta roba? Ma ti prego Ma sono delle pinne da mano Ma che cazzo Ma dai Ma che cos'è sta roba? Che cazzo sono? Arlong Che cazzo Non sono un uomo pesce Cioè diventi Nooo Ma dai Ma scusa Ma cosa Quanta velocità speri di acquisire Con sta stronzata Cioè Oh cacca Diventi una rana Oggi ragazzi Diventerò un anfibio Boom E si vanno a conquistare Gli stagni ragazzi Madonna mia Che velocità estrema Cosa sta velocità? Un uomo stagno ragazzi Adesso ho raggiunto la mia evoluzione finale Oh crampo È scelto Oh Che crampo Quante stelle gli dai? Due meno Mamma mia ragazzi Che uomo rana fallito Che fono Prossimo prodotto Due virgola nove stelle Macchina da zucchero filato elettrico Mi sa già di utensile Che come attacchi la spina Esplode da fuoco la casa Macchina per zucchero filato elettrico Ma è figo Professionale Ti puoi fare lo zucchero in casa C'è sito professionale Sembra professionale Un po' vecchio Cioè guardare non mi sembra una cosa molto professionale Cioè guarda il packaging Cos'è per il mostro nel lago Ridere a crepa pelle Ridere a crepa pelle Ridere a crepa pelle Andiamo dentro a provarlo Vediamo le istruzioni cosa dicono Allora Quindi bisogna accenderlo Aspettare due minuti In questo tempo si scalda E poi metti un cucchiaino di zucchero all'interno Vediamo No ma vecchio Ma sto buono Non per decollare Stacco Ma lo stesso casino di una PS4 Stacco Bene adesso abbiamo tutte le precauzioni Per poter fare la zucchero filato Hai fatto bene Perché anche io avrei preso qualcosa del genere Un centicodore di zucchero filato È vero Oh no Che figata Professional Guarda come si appiccica Cioè se lo tira Se lo tira dietro tipo È uscito Beh 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 però devo dire Nonostante Sì esatto Nonostante sembrasse Un reattore ARC Sembrasse il Tomahack Per fare la fusione nucleare Guardandolo Devo dire che nonostante tutto il risultato Un po' tristo però Qualcosa però Momento dell'assaggio 3 2 2 1 2 1 È zucchero filato Ma sembrava tristo da vedere però Che figata Uguale a quello che prendi in giro alle piere Che figata Voto 5 su 5 Prossimo prodotto Madonna cos'è? Che cos'è questo? Serve per diventare magneto degli X-Men Che cos'è questo? È una roba estrema Massaggiatore elettrico per gli occhi Per gli occhi Cioè non le tempie Non le palpebre Gli occhi Massaggio all'occhio Cioè io non ho mai sentito Vuoi un massaggio all'occhio? Cioè non un massaggio alle tempie Un massaggio non so Alle palpebre Un massaggio agli zigomi No proprio l'occhio Ti massaggia la corna 50 euro E qua mi faccio una sessione dall'estetista Massaggia all'occhio Prima e dopo Guarda non ci credo neanche Che ti fa Sì ma cos'è? Ti toglie le rughe Cioè non è un massaggiatore Proprio ti ringiovanisce la pelle di 20 anni È la fonte dell'eterna giovinezza Gli ha cambiato anche il colore degli occhi Pazzesco Se funzionasse così dovrebbe restare la L Questo sarà interessante Cavolo Oddio Perché sei un supereroe Perché sembri se sei un supereroe Vabbè dobbiamo testarlo però Secondo me per accenderlo questo è il tasto Vediamo Che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cos'è? Gli occhiali di ciclope degli X-Men No non puoi toccarlo Mettelo bene e ti scioglie le tempie Come l'accendi C'è un laser che ti perfora la tempia Ti scioglie il cervello Aiuto Aiuto Vedo tutto rosso Quindi fa solo luce alle tempie Esatto Ho un'idea Proviamo a vedere al buio com'è Spendilo Massaggio man Ho bisogno di te Ma è bellissimo Lo comprerei solo per questo raga Non vedo nulla Oddio Non vedo niente Che scago Fa super paura No vecchio Ti giuro sono terrorizzato Prova a farlo Vecchio Vedo le cose che si muovono Vedo le cose che si muovono Stai fermo Tu non sembri un super eroe Wow Ok stai fermo È un buco nero All'avanti Ma lo facevano Per riset Artini Il cervello Ridere a crepa pelle Ridere a crepa pelle Ridere a crepa pelle Ridere a crepa pelle E si torna Portano via Costa 50 euro sta cacata Bocciato all'estremo Next product Palla volante Palla volante è molto generico Palla che però dentro è una ventola Mi sa e quindi tipo fluttuo Secondo me è figo Perché è una stella Come i miei coglioni quando mi invita a Grimbald Fa tutto sto pacco per questo Come si accende? Non c'era l'immagine che diceva di agitarlo? Che bravo che sei tu Ma perché tutte queste cose da un euro Sembrano tutti dei prodotti usciti Da una centrale termonucleare Qui c'è troppo poco spazio Andiamo fuori Sembra anche carina da vedere Meno male No ma Grimbald lo dice in maniera affettiva Dov'è vecchio? No dov'è? Tende la mano verso il boccino d'oro Oh mio Dio Numero di stelle del prodotto? 3 stelle su 5 Sì è un po' una strozzata Ma sì ma va dove cazzo vuole lui? Cioè è un gioco di merda Va dove cazzo gli para lui L'accendi e finisci dove cazzo vuoi Anch'io 3 Guardatemi molto bene Qui Ok? Beh gusta la mangusta? Egg scrambler Ah ho già capito cos'è Cioè praticamente tu unisci l'album E il tuorlo ma dentro l'uovo Così Vabbè questo funziona Però non serve un ex scrambler Cioè nel senso Dopo magari puoi fare un uovo sodo giallo Cioè tutto giallo capito? Sì questo funziona però Pisa danneggiare il guscio d'uovo C'è scritto Ragazzi questo è veramente incredibile No è che io ti giuro pensavo fosse gigantesco Ecco perché gli è andata una stella Vabbè vediamo però se funziona Dai prendiamo delle uovo Sì funziona però una cacata Cioè alla fine Secondo me cuociamo un uovo normale E un uovo invece che mettiamo qui dentro E vediamo la differenza Ci sta Così? Ah oddio Cioè è tipo uno yo-yo come funziona Esatto Buttiamo questo e uno normale Vediamo se c'è differenza Sì torri a sì torri a quello che abbiamo creato Con il macchinario E uno bianco Attenzione Oddio Già vedo che è giallo Adesso prova a tagliare a metà il tuo E poi taglia a metà il mio Perfetto Ok Vediamo il mio Pazzee Sì il problema è che non serve un cazzo Cioè il problema è quello Cioè il problema è che non serve un cazzo Perché tanto se fai un uovo sodo Che cazzo cambia Cioè non serve a niente questa roba qui È totalmente inutile Assaggiamo vediamo Che strano Di solito quando mangi l'uovo C'è l'albume E poi senti dentro che c'è la parte più morbida del tuo oro Questo invece è tutto duro Sembra di mangiare quasi una caramella la consistenza A me piace infinitamente di più l'uovo normale Anche a me Quindi Bello ma è inutile Due Prossimo prodotto Il prossimo prodotto Che cos'è sta Sono dei denti Ma una dentiera 8.097 volte Cioè sta cosa l'han comprata Cioè una dentiera Cioè Quale malattia mentale hai Per comprare una dentiera da Amazon Da Amazon Cioè tu hai bisogno di una dentiera La compri da Amazon In migliaia di persone Ma chi? Ma chi? Oltre a noi due Guarda quante recensioni E beh minchia l'han preso 7 miliardi di persone Questo è un prodotto scherzoso Questo non rimane mai acceso per più di 3 minuti Come non rimane mai acceso? In che senso? Scusate in che senso acceso? Scusate Mi sono perso qualcosa In che senso acceso? In che senso scusami RGB È tempo Cioè cosa ti fa i denti luminosi Oh eccolo qua Oddio Tiriamoli fuori innanzitutto Sono di acceso Ma vedi c'è del materiale qua dietro È quello lì per prendere lo stampo dei tuoi denti Mettere i denti all'interno di un bicchiere di acqua quasi bollente Poi Posizionare i denti Sui tuoi denti Sembra sì Posizionare i denti sui tuoi denti Giussi grazie per i vendi Stiamo assaggiando i denti Ora sei un perfetto inglese Ora hai tantissimo un inglese È un film horror Andiamo a vedere il risultato Ha i denti sui denti Madonna mia Sei proprio brutto È inglese È tantissimo inglese Vediamo cosa ne pensano le altre persone Allora io mi immagino la gente che pensava che questa sostituisse il dentista Vabbè ma devi essere rincoglionita e comprarti la dentiera da Amazon Ehi Follastra Ehi follastra Ehi follastra Mi hai pensato all'igiene dentale Bene direi Che coglione Fare il prossimo prodotto Tutti esaltati per standing in a bubble Questo secondo me è figo dai Sì però devi essere capace di farlo Hai Crei una bolla Sei dentro una bolla Questo è figo Guarda com'è contenta quella bambina Guardala Allora Disponiamo di Sì secondo me non sono capace di farlo Penso che sia quello per fare il cerchio Questa è liquido magico È liquido magico per fare le bolle Vai Allora tu pensa al cerchio Io penso qua al gonfiabile Cerchio completato In teoria Vedi questo che è perfettamente Della grandezza per stare in mezzo Ti ficchiamo qua dentro il liquido Io mi metto in mezzo qua Io credo No Andrea io il 26 partirò per la Francia Andrò a Disneyland E probabilmente ucciderò qualcuno Sì è la base di Disney Ma comunque tornando a noi Andrò anche al Louvre Se ti serve una nonna Lisa originale Avvisa che te la portò Alla fine salirò sulla torre Eiffel Solo per buttare giù qualche vecchia francese Vabbè fin qui è la base del turismo Non mi scuserò mai per i miei messaggi lunghi Solo perché sono dell'artistico e del sub Lacrime di gioia Lacrime di gioia Lacrime di gioia Lacrime di gioia Oh dai ma scoppia subito Oh Devi andare piano Ma mi stai inglovando Difficile da fare Vedi che si chiude Non ha senso Troviamo senza di me dentro Superbolla in arrivo Oh Dio Cacchio Cacchio Devi far veloce Questa roba costa 30 euro Sta minchiata 30 euro Allora l'abbiamo pagata Non mi ricordavo Allora che due stelle Scioio e zero Raga zero Speriamo che il video di oggi Vi sia piaciuto In quel caso Sta troiata 30 euro Che troia Cioè pur che puttana Sta minchiata 30 euro Facevo prima Non prenderla proprio Cioè voglio dire